mi vediamo tra le azioni e due dopo questa interruzione pubblicitaria mi vediamo siamo arrivati a dunque di calumi postantini calumi postantini comprati guarda dal mantellato comprati bene siamo arrivati a dunque siamo arrivati a dunque abbiamo già sventrato abbiamo sventato ala poco minaccia la tisella non interroppo la lumiere voi siete belli intercolati come dei cagnetti vedete le labbra oh dopo questo dopo questo piccolo approccio è un approccio delicato la pazza è molto contenta la pazza è molto contenta la pazza è molto contenta guarda ci sta anche ma è tutto non ci fa capire se la pazza è contenta come sta la pazza la pazza è in sicuro e il tubo è messo così praticamente il tubo è messo così praticamente adesso è un bel però adesso andate a cibo pace e bene bene come è faluto brutto ruolo ciao ciao al pericolo cioè un saluto è